Marco Bermani, segretario nazionale CGL Flai, è finito l'incontro Colussi, diciamo con l'avvertenza Colussi, come è andata? È andata che l'obiettivo che c'eravamo posti, che il Ministero facesse un elemento di regia tra le parti sociali e controllasse cosa e quale sarebbe stata la dichiarazione dell'azienda, su questo l'abbiamo portato a casa. Quindi passeremo un percorso rispetto a quanto abbiamo già dichiarato precedentemente e nella produzione anche di un verbale ministeriale, quindi si ritroverà della documentazione che ci permetterà di passo dopo passo di seguire questa avventura. Avventura che ha portato anche una dichiarazione importante, io credo, da parte della rappresentanza sindacale, in cui ha affermato che al di là della progettualità dell'azienda di attività collaterali alla produzione della pasta, che queste attività collaterali sarebbero più funzionali se anche parte dell'attività di pasta rimanesse all'interno della realtà. Ora, le risposte dell'azienda sappiamo quelle che sono e che è la dichiarazione di cambiare completamente, ma noi pensiamo che nell'utilizzo di questo tempo, al meglio da oggi alla fine del 2015 e guardando anche avanti, ci possono essere anche dei cambiamenti importanti sul mercato e che la pasta ritorni a essere un punto di riferimento per colussi ad imperia, magari con quantità diverse, ma assieme alle attività collaterali un buon obiettivo e una buona progettualità. La cureremo e vedremo di far sì che il ministero verifichi tutto questo nostro progettuale. Ci sarà un altro incontro dunque prossimamente? Prossimamente ci saranno degli incontri di certo territoriali, perché anche lì ci saranno degli incontri territoriali per monitorare la situazione e poi l'esigenza di ritornare anche ancora al ministero per riposizionarci su cosa stiamo facendo. Quindi sarà un lungo viaggio, augurandoci che in questo lungo viaggio l'insieme dei lavoratori capiscano che i nostri sforzi sono per mantenere i 110 occupati e se ce la facciamo, ma io penso anche di sì, anche quelli che oggi non fanno parte delle attività di Colussi ma danno una mano all'attività Colussi.